La situazione di degrado e di pericolosità per l'incolumità delle persone dell'immobile Ex-Inam in via Sant'Andrea L'Aquila, di proprietà dell'azienda sanitaria locale, non può più essere tollerata. Lo afferma l'ex assessore comunale alla mobilità, Carla Mannetti, responsabile regionale infrastrutture e trasporti della Lega, ricordando come per lo stabile ci sia ormai da anni un finanziamento inutilizzato di ben 5 milioni di euro. Chiedo al manager dell'azienda sanitaria locale, Ferdinando Romano, che conosce perfettamente il problema, di intervenire con la massima urgenza per mettere in sicurezza l'immobile con lo scopo di far partire i lavori che interessano l'edificio. La situazione è veramente grave, dice la Mannetti. Ci sono cabine elettriche incostudite, fili scoperti, ringhiere pericolanti, vetri rotti ovunque, cattivi odori e perfino anche animali. L'ex assessore ricorda come per l'ex Inam sia in ballo anche una riconversione a parcheggio. La superficie dello stabile è di circa 5 mila metri quadrati e potrebbe rappresentare un'autentica boccata d'ossigeno per il centro storico. E peraltro, dice la Mannetti, è un intervento che, seppur subordinato alla permuta da mettere in atto con l'azienda sanitaria locale che andrebbe accelerata, è previsto dal piano della sosta approvato dal Consiglio Comunale nel 2022.